Le bandiere di Futura Libertà sventolare in piazza vicino al popolo Viola ed è stato anche portato solidarietà da alcuni esponenti. È un nuovo scenario politico che si va prospettando? Assolutamente non condivisibile per quel che mi riguarda. Io ritengo che Futura Libertà debba essere una forza centrodestra che voglia rifondare il centrodestra, ovviamente oltre Berlusconi e credo che questo si possa fare con estrema chiarezza. Senza ambiguità e senza infincimenti, io non centro nulla col popolo cosiddetto Viola ancorché anch'esso con testi Berlusconi su altre sponde per altre motivazioni.